Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Da tantissimi mesi io vi volevo raccontare questa storia, fin da quando ne ho sentito parlare. La storia di Gabby Petito, una storia recente, troppo recente forse. Ho preferito comunque attendere sino ad ora. La storia di Gabby e del suo fidanzato Brian ha scatenato una vera ossessione e riflessioni profonde che ancora oggi non smettono di mutare e di offrire nuovi spunti e profondo sbarrimento. Che cosa si nasconde dietro la vita perfetta e patinata degli influencer e dei social blogger? Quali segreti si nascondono dietro la versione romanzata di noi stessi quando mostriamo e regaliamo al pubblico la nostra vita in bottiglia o per meglio dire quella che riteniamo la parte migliore della nostra vita, l'unica che ci sentiamo di poter mostrare agli altri? Quando il dito si solleva dall'obiettivo, quando la lucina rossa si spegne, che cosa accade davvero? Con queste domande un po' provocatorie partiamo dall'inizio. Gabrielle, ve ne ho rappetito per tutti Gabby, è una splendida ragazza di 22 anni che prima che la sua vita prendesse una piega inaspettata e impensabile e che lei divenisse famosa in tutto il mondo, è una ragazza qualunque della generazione Z. Vive a Blue Point nello stato di New York con la sua famiglia, una famiglia che è incredibilmente unita anche se i suoi genitori hanno divorziato da tempo e si sono risposati. Le famiglie sono rimaste in ottimi rapporti e Gabby vive in un'unica grande famiglia in armonia con loro. Gabby ha sei fratelli a cui è molto legata, ha un solido rapporto con la madre Nicole, con suo padre Joe, ma anche con il suo patrigno a cui è davvero legatissima Jim. Tutte le volte che parliamo di una vittima sul mio canale, quando faccio le ricerche, essa ci viene descritta come una persona splendida e forse a volte, lo ammetto, l'ho pensato, in maniera anche un po' scontata e sospetta. E Gabby non fa eccezione, ma guardando i suoi video, le sue foto, i suoi occhi, viene naturale affezionarsi a lei ed è capitato anche a me. Gabby sembra davvero un'anima bella. È descritta da tutti, in particolare delle amiche, come una giovane che attrae gli altri perché è piena di vitalità e di gioia, è sempre sorridente e ironica, è decisamente un'entusiasta, ama vivere. Dopo le scuole e il diploma ottenuto in una scuola prestigiosa, nel 2017 Gabby si differenzia dal 97% dei suoi coetanei che decidono di andare al college e decide di prendersi una pausa, andare a lavorare e trovare la sua strada. Gabby è molto intelligente, ha un ottimo rendimento scolastico e prima o poi è decisa ad andare al college e proseguire gli studi, ma quello non è il momento giusto per lei, non è il momento adatto. Lei vuole scoprire il mondo e cosa questo mondo può offrirle. Così decide di andare a lavorare per mettere da parte i soldi per autofinanziare i suoi progetti, viaggi e avventure. Trova lavoro in un ristorante e ha un ottimo rapporto con il capo e con i suoi colleghi. È ben voluto da tutti, è una ragazza affettuosa, piena di premure, però anche se lei sul lavoro dà tutto, in quel posto al ristorante è soltanto di passaggio, è soltanto un'esperienza per lei. Non può stare ferma, ma in questa fase di stallo, all'inizio del 2019, Gabby rincontra un suo ex compagno di scuola, Brian Laundrie. Brian si è appena trasferito in Florida con i suoi genitori e i due che frequentavano le superiori insieme ma che non erano mai usciti insieme, iniziano a frequentarsi. I genitori di Brian Laundrie sono imprenditori che operano nel campo delle macchine alimentari, sono persone a prima vista per bene, benestanti e affidabili. A marzo del 2019 Gabby esce per la prima volta con Brian e tra i due scatta la scintilla che è alimentata dalle comuni passioni e da un'idea condivisa di come la vita debba essere vissuta. Loro amano l'arte, viaggiare ed esplorare la natura. Gabby è una sostenitrice della vita salutare e ama praticare fitness. Brian invece è più filoestremista, è un tipo solitario che ama connettersi con la natura e vivere all'aperto, adeguandosi anche a condizioni non proprio favorevoli come esperto di sopravvivenza in ambienti ostili. Questo è un dettaglio non da poco. A differenza di Gabby che è molto popolare ed è circondata da relazioni, Brian è un orso, schivo e solitario, con pochissime amicizie e rapporti significativi. Hanno due caratteri davvero agli antipodi, ma ad ogni modo si innamorano e decidono che vogliono stare insieme e vogliono condividere ogni giornata insieme. Così, si può dire, bruciano le tappe e vanno a vivere subito dai genitori di Brian in Florida. Anche qui Gabby si fa amare da tutti, si lega ai genitori di Brian, ai suoi fratelli e sorelle e persino ai nipoti. Viene accolta in casa come una di famiglia, come una nuova figlia e sorella. A sua volta Gabby presenta Brian alla sua famiglia e lui è capace di farsi amare a sua volta apprezzare, perché è un ragazzo gentile ed educato, molto rispettoso. Lega con i fratelli di Gabby, con cui esce a fare gite ed escursioni anche da solo. E lo stesso patrigno di Gabby, che ama moltissimo la ragazza, è tranquillo quando loro viaggiano insieme, perché Brian lo rende sereno da questo punto di vista. Sa che si occuperà di lei. Mentre si trovano in Florida, Gabby e Brian iniziano a lavorare ad un progetto, ragionando su uno stile di vita che sia eccitante e in linea con i loro desideri e con la loro filosofia. È Gabby che cura questo progetto nel dettaglio, tentando di creare il suo business e promuovendo innanzitutto la sua persona sui social, come trampolino di lancio. Così apre tra il 2020 e il 2021 una pagina Instagram, che oggi è ancora attiva. È un canale YouTube. Lei tenta di monetizzare i suoi profili, ovviamente perché vuole autofinanziarsi e vivere delle sue esperienze. Però Gabby non vuole solo guadagnare e divertirsi, vuole anche essere un esempio. Insomma, lei ci crede davvero in quello che fa. Gabby desidera tutto. Amore, ideali, lavoro, tanta scoperta e avventura. Dopo aver sudato e promosso la sua immagine sui social media, Gabby inizia ad essere soddisfatta, leggermente. Non è propriamente famosa, ma comunque al suo seguito e dunque decide di passare alla fase B del suo progetto. Intanto, da marzo ad ottobre, passano sette mesi e per festeggiare questo traguardo, Brian e Gabby decidono di effettuare il loro primo road trip alla volta della California, utilizzando la macchina di Gabby. Quindi partono per un viaggio in macchina. Questa è l'occasione concreta per Gabby di testare la sua attività di influencer così come la vorrebbe, in viaggio e in continuo movimento, promuovendo ciò che per lei è il bello della vita. Il mare, la sabbia, i paesaggi muzzafiato, la natura incontaminata, il cibo sano e colorato, la lotta all'inquinamento ambientale, lo yoga e la meditazione, la libertà di partire e assaporare una vita più leggera e meno grigia insieme all'amore della vita, lontana dallo stress e a contatto con una dimensione emozionale e spirituale. Essere liberi, amare, esplorare, non arriccare danno, rispettare le persone e la natura, conoscere cose nuove. Gabby decide quindi di aprire anche un canale YouTube di vlog dal nome Nomadic Static, la sua creatura. Ancora oggi questo canale è attivo. Lei cura di questo canale ogni dettaglio a partire dalla grafica del canale e carica all'interno del canale il primo e unico video della durata di circa 8 minuti che racchiude quell'inizio di avventure insieme a Brian. In ogni frammento di quel video, Gabby sembra davvero felice, felice da farci invidia. Sulla sua pagina Instagram, a conclusione dell'esperienza, lei scrive, attraversare il paese in macchina fino in California e in Oregon è stato un vero sogno. Rientrata in Florida dopo il viaggio, Gabby comprende che quella è la strada da seguire e non sta più nella pelle. Così acquista a sue spese, per lei e per Brian, un van, ovvero un furgone in cui vivere. In cui vivere chiaramente il prossimo viaggio e quello dopo ancora e assaporare quello stile di vita, la van life, documentando chiaramente tutto ciò sui social. Lei e Brian iniziano da subito a mostrare sui social i preparativi per il viaggio, adeguando con le loro mani il van affinché fosse carino e funzionale per la vita on the road, ma di pari passo documentano anche il traguardo che la loro relazione sentimentale sta vivendo. Gabby scrive questo. Brian mi ha chiesto di sposarlo e io ho detto di sì. Dunque Gabby non potrebbe essere davvero più felice e appagata di così, perché in poco tempo sta realizzando ogni suo desiderio. Ha un fidanzato splendido che condivide con lei i suoi sogni. Insieme lavoreranno e viaggeranno divertendosi ed esplorando nuove mete e vivendo all'interno del loro piccolo e graziosissimo van. Per lei, per loro, tutto è semplice, ma non immaginano in che cosa stia per tramutarsi quel sogno e quanto loro abbiano soprattutto nel loro rapporto, ripeto, bruciato probabilmente ogni etapa. Ricapitoliamo dunque. A luglio del 2020 Gabby e Brian si fidanzano ufficialmente e un anno dopo, esatto, a luglio del 2021, salutano le famiglie, caricano il furgone con i loro effetti personali e con i beni essenziali di prima necessità e partono per il loro primo viaggio e per chiaramente iniziare il loro sogno. Direzione ovest verso i parchi nazionali di Colorado, Utah e Wyoming. Gabby, veramente super entusiasta, inizia subito ad immortelare piccoli frammenti di quel viaggio, riprese del van di lei e Brian felici di entusiasti e bellissimi panorama mozzafiato dove si accampano. Gabby commenta ogni cosa con il suo solito entusiasmo perché l'obiettivo è ottenere visualizzazioni da persone amanti della vita all'aria aperta, rapite dall'idea di una vita nomade e amanti della natura. Guardare i loro video è di ispirazione, è un mondo molto affascinante e come Gabby e Brian ci sono anche altri canali YouTube e pagine Instagram dedicate a questo tipo di vita e che ricevono anche moltissime visualizzazioni. Gabby e Brian sono giovani e liberi e stanno prendendo a morsi la vita. Molti spettatori non possono fare a meno di provare invidia al loro posto. Inoltre Gabby è davvero brava in quello che fa, potete vederlo voi stessi, ha un senso estetico spiccato, il piccolo van è graziosissimo, colorato, curato nei minimi dettagli. Che sia proprio lei l'anima di quel progetto non c'è alcun dubbio. Brian è più silenzioso e tenebroso però sembra un compagno perfetto e affidabile nei riguardi di Gabby. Loro postano riprese, intenti a correre spiaggia mentre si abbracciano, in tenda risveglio assonnati, sempre con questi larghi sorrisi e occhioni felici. È una scelta di vita che forgia sicuramente una coppia perché non soltanto sono sempre insieme ma spesso anche incompleta e totale solitudine. Loro visitano posti dispersi in cui non c'è campo a volte e dove affidarsi al proprio compagno e avere un buon feeling con esso è fondamentale anche per la tua stessa sopravvivenza fisica e mentale. Loro sono ben equipaggiati, non sono sprovveduti sia per le riprese, hanno un drone, hanno una macchina fotografica e anche un portatile, ma hanno anche un'attrezzatura da escursionisti esperti perché visitano posti impervi e non è tutto una passeggiata chiaramente. Gabby però fa sembrare decisamente ogni cosa a una boccata d'aria fresca, con il suo aspetto grazioso e sano, con i lunghi capelli biondi, lineamenti dolci e delicati, gli occhi azzurri, la pelle candida, la figura lungiligna, è atletica, è frizzante, è innamorata e ha questo grandioso entusiasmo quasi fanciullesco e contagioso. Fa proprio bene guardarla, non so come dirvi, mentre la figura di Brian è un altro paio di maniche. Io ho visto la pagina di Brian Laundrie prima che venisse chiusa, quindi parlo perché ho guardato proprio i post di Brian e non ho avuto delle sensazioni positive, perché se Gabby è la luce del giorno, Brian è decisamente il giorno che muore e l'oscurità che si allarga. I suoi post, la sua postura, le sue espressioni sono l'opposto di quelle della fidanzata. Brian pubblica delle foto anche bellissime, però con delle didascalie minimal e poco ottimiste, poco entusiaste. Lui sembra decisamente disprezzare il mondo e in particolare il genere umano di cui lui fa tra le altre cose parte. Gli esseri umani sono primati in pratica a grandi scimmie, ma non so quanto siamo grandi come specie. Le sue foto sono aride, impostate, fredde, come una natura morta su tela, immagini prive di energia, di calore. Lui disprezza l'essere umano in quanto è un grande contaminatore dell'aria che respira, della natura e dei doni che gli regala. Un essere amorale sporco, incapace di apprezzare e di curare il luogo che lo ospita e a volte, ammetto, non ha del tutto torto su questo, possiamo dircelo. Però per Brian questa è proprio una ragione fondamentale della sua vita. Brian pubblica anche la sua arte e dipinge, ma è un'arte cupa e oscura, immagini di teschi e di mostri con colori vividi, accesi e cupi. Viola scuro, rosso sangue, verde acido, tutti mischiati insieme. Insomma, Gabby e Brian non potrebbero essere più distanti e anche se hanno sposato un'idea di vita comune parecchio fuori dagli schemi, sembrano vederla e osservarla con delle lenti totalmente diverse. Durante il loro viaggio, Gabby mantiene costantemente i contatti con la sua famiglia e chiama la madre ogni giorno o nei casi di restrizione del campo a giorni alterni e posta regolarmente dei post e delle storie che la mantengono collegata al mondo. Inoltre la coppia usa un'app The Dirt che mostra i punti dove si accampano in modo che ogni follower, ma anche amici e parenti, possano seguire i loro spostamenti in tempo reale. A metà mese, il 16 luglio del 2021, Gabby e Brian arrivano allo zio National Park in Utah e quei primi 15 giorni, a dispetto delle foto e dei video, non sono stati sicuramente giorni semplici, soprattutto perché loro stanno attingendo ai loro risparmi per finanziarsi, in particolare i risparmi di Gabby. Per guadagnare sui social tu devi monetizzare e avere un seguito consistente, ma per avere questo seguito devi pazientare, avere fortuna e soprattutto investire con la prospettiva anche di fallire miseramente e perdere dei soldi. Ad aspetto di chi promuove la sua arte da casa, la loro idea di lavoro e di vita è inizialmente molto dispendiosa e ambiziosa. Se preferite a un terno allotto, c'è la benzina da pagare, bisogna mangiare ogni giorno, bisogna riparare il van e investire in apparecchiature per produrre filmati e video di qualità il più possibile professionale. Può essere, anzi, sarà stato sicuramente molto stressante e frustrante per loro. Fare l'influencer, a dispetto di quello che si crede, a livello professionale, porta via molte energie. Tu devi essere costantemente sul pezzo, devi essere costante ogni giorno, ogni momento e inoltre è un ambito estremamente spietato e competitivo che ogni giorno, anzi ogni minuto, sforna nuovi rivali e dove distinguersi è davvero difficile. Come Brian e Gabby, infatti, ci sono moltissime altre coppie, canali e pagine Instagram che promuovono un'esperienza simile sui social. A fine luglio, i post che Gabby pubblica quotidianamente iniziano ad essere sporadici e meno gioiosi e chi segue Gabby assidualmente inizia a chiedersi come mai la vitalità e l'energia che trappelava dallo schermo sembri essersi esaurita improvvisamente. Agosto, se possibile, inizia e termina in modo ancora peggiore perché Gabby pubblica solo quattro post su Instagram di cui l'ultimo la ritrae con gli occhi simichiusi mentre cinge tra le mani a coppa una piccola zucca che sembra fatta all'uncinetto e la didascaria dice Buon Halloween. Detto così nulla di strano, c'è la zucca. Se non fosse per la data, 25 agosto del 2021. Quella foto inizia a fare insospettire i seguaci di Gabby, soprattutto perché la ragazza è partita proprio per pubblicare le sue esperienze e è assolutamente strano e preoccupante che Gabby posti solo quattro post in un mese. Gabby è in viaggio ed estate e lo scopo è proprio quello di far storie post per promuoversi. Dunque, perché tacere e rimanere nell'ombra? Quel post è distonico, come una carta sbagliata che stona dal mazzo. Sembra quasi che non sia stata lei a pubblicare quella foto o che fosse una foto vecchia, magari dell'autunno prima. Ma a questi due elementi, ovvero al post e alla mancanza di post assidui, se ne aggiunge un terzo che è il più preoccupante, ovvero che Gabby interrompe le comunicazioni con la sua famiglia totalmente e non li aggiorna più. I genitori si preoccupano immediatamente, si rendono conto che qualcosa non torna nel quadro generale e pensano chiaramente ad un incidente. Però poi, finalmente, iniziano a ricevere dei messaggi dal cellulare di Gabby nuovamente. Uno in particolare. No service a Yosemite. Non c'è campo a Yosemite. Ma questo messaggio non è assolutamente rassicurante. Yosemite è in California, mentre secondo l'itinerario di Gabby e Brian, loro a quel punto dovrebbero essere diretti a nord, al Grand Teton National Park, nel Wyoming, direttamente dallo Utah. Quindi non ha nessun senso. La madre Nicole, in realtà, si preoccupa tantissimo e, se possibile, ancora di più. Qualcosa davvero non le torna. Quella tappa non era assolutamente prevista e cozza completamente, perché dista 17 ore di viaggio dalla tappa prevista in itinerario che lei conosce. Inoltre, quei messaggi sono troppo freddi, sono privi di punteggiatura. Gabby non è così. Non sembrano scritti da lei. Il sesto senso della madre, chiaramente, si drizza e fa molto bene, direi. Perché c'è un nuovo tassello agghiacciante da aggiungere alla storia. Uno di quelli che farebbero sobbalzare ogni genitore, tremare la terra e spalancare sotto ai loro piedi una voragine senza ritorno. Loro scoprono che Brian, il compagno di viaggio e fidanzato di Gabby, è rientrato a casa sua in Florida il giorno primo settembre. Brian è rientrato con una cosa e senza una. Con il furgone di Gabby, ma senza Gabby. I genitori di Gabby, come prima cosa, telefonano ai Londri. Sanno che sono brave persone, i consuoceri, educate e ragionevoli. Gabby ha vissuto da loro per un certo periodo. I due ragazzi si vogliono sposare e Gabby è molto affezionata a loro e del resto loro la considerano una figlia per loro stessa ammissione. Chiedono immediatamente aiuto a loro. Gabby non risponde ai loro messaggi. Dove si trova? È tutto ok? Come mai Brian è tornato a casa con il van della figlia e non dice loro immediatamente dove lei si trovi. Ma colpo di scena ancora più devastante. I Londri non rispondono mai ai loro messaggi e li ignorano totalmente. Questo è un comportamento davvero aggressivo, permettetemi. Per una volta voglio sbilanciarmi perché sapete che io non dico mai il mio pensiero non perché io non ne abbia il coraggio, non ve l'ho mai precisato, ma perché vorrei che la vostra esperienza sul canale fosse il più possibile pulita. Quindi non vorrei influenzarvi, anche se a volte alcune cose che dico o anche le mie espressioni vi fanno capire che cosa io stia pensando. Ma in questo caso io voglio veramente dire questa cosa. Questo è un comportamento assolutamente e totalmente aggressivo e davvero poco poco poco, anzi privo di qualsiasi empatia e umanità da parte di due genitori nei confronti di altri due genitori. Li hanno lasciati totalmente nell'angoscia più totale, nel buio più completo e come genitori anch'essi io ho provato a comprendere questo tipo di strategia ma non ci sono proprio riuscita. Non rispondono alle telefonate ed epitito nei messaggi e assumono un avvocato che consiglia loro di trincerarsi dietro un freddo e totale no comment che per carità sarà pure un tuo diritto ma ecco a voi improvvisamente da qui la storia di Gabby e Brian. Proprio in questo punto cruciale quando loro assumono l'avvocato e Brian torna in Florida diventa un dramma e questa favola avventurosa diventa il peggior film horror che voi possiate immaginare. La madre di Gabby, Nicole, a questo punto è completamente in preda al panico e non trovando aiuto e sostegno dai laundry nella disperazione più totale chiaramente denuncia subito la scomparsa della figlia e la denuncia chiaramente alla polizia dello stato di New York dove loro vivono. Lei non sente Gabby da giorni e non è davvero mai successo che lei la fia non si sentissero per più di due giorni di fila. I laundry però, attenzione, si rifiutano di parlare anche con la polizia e tutto questo è sempre più inquietante. La fidanzata del figlio è scomparsa e loro non vogliono rilasciare alcuna dichiarazione né collaborare in alcun modo e il loro silenzio angoscia a questo punto l'intera nazione. E qui anche noi nel 2021 siamo i protagonisti perché si spalanca il sipario e va in scena il dramma. Ricerche, conferenze stampa, supposizioni, i social sono subissati di foto e commenti su Brian e Gabby che appartengono ai social e ora sono famosissimi sì certo ma non nel modo che Gabby sperava e lei non è lì a godersi le luci della ribalta. Il suo nome viene digitato migliaia di volte al giorno e ci sono cori di persone che questo nome lo urlano fuori da casa dei laundry appostate lì ma Gabby non c'è, non è lì eppure è ovunque. Le sue foto vengono viste e riviste, stampate, ripostate, pubblicate, più e più volte morbosamente osservate con curiosità ma anche con enorme commozione e preoccupazione per le sue sorti. Dove caspita è finito quel frizzante raggio di sole che subissava il web di post ogni giorno? Proprio la storia di Gabby e la sua presenza sui social come influencer rende il suo caso appassionante per molti, passatemi il termine appassionante chiaramente, però ci sono persone ossessionate su Gabby e le teorie abbondano e chiaramente per oscuro riflesso anche Brian diviene famosissimo. Si analizzano i post di Brian, post criptici, il suo atteggiamento nonché gli ultimissimi post pubblicati sulla pagina Instagram di Gabby così diversi dal solito e pieni di hashtag mai usati prima. Si cerca di ricostruire l'anatomia psicologica di Brian in qualche modo perché tutti sono certi che si cieli proprio dietro di lui il mistero di Gabby. Nel frattempo la polizia continua a seguire ogni pista possibile. Philip Smith è un detective della polizia di Jackson in Wyoming e lui riceve la telefonata di un detective che si trova invece in Florida che ha delle informazioni proprio su Gabby e in particolare sulla carta di credito utilizzata a Jackson appartenente a Gabby Petito. In questo momento per Gabby vi è un'allerta molto alta che coinvolge tutte le contee da dove i due ragazzi dovrebbero essere passati. Il 27 agosto del 2021 quindi quella carta viene utilizzata alle ore 14 per fare benzina a Jackson che è proprio molto vicino al Grand Teton National Park, una delle mette dell'itinerario iniziale di Gabby e Brian. Così grazie a questo dato e a vari altri elementi loro provano a ricostruire il percorso di Gabby e Brian e una cronologia degli eventi. Iniziano ad analizzare centinaia di ore e ore di filmati del distributore in questione e delle videocamere di sorveglianza dei negozi lì vicino. Dopo un tempo infinito all'improvviso eccolo lì il van che arriva nel parcheggio di Whole Food e non ci sono dubbi perché vediamo Gabby e Brian che camminano vicini nel parcheggio in direzione dell'entrata del negozio. Queste qui sono le ultime immagini di Gabby petito. Gabby cammina con le braccia concerti con la testa bassa, indossa dei jeans corti, una maglietta nera e un cardigan. Brian invece ha un cappello in testa e tiene le mani in tasca. I corpi dei due ragazzi sono distanti, sono staccati, non sembrano a loro agio dalla postura, non parlano, non ridono tra di loro, sono veramente molto freddi e dentro al supermercato ci sono altre telecamere e vediamo loro che osservano le merce ma l'atteggiamento non cambia. Gabby prova a coinvolgere il compagno in qualche timido tentativo ma lui rimane sempre impassibile e freddo e lei tiene le mani sempre così, immaginatele sulla pancia, concerti, abbracciandosi come se volesse in qualche modo confortarsi da sola e farsi forza. Non comprano nulla, fanno solo un giro delirante del negozio, non sembrano avere uno scopo, come se loro fossero entrati dentro in zona franca per poi tornare in trincea e escono di nuovo così senza tenersi la mano, con i corpi staccati e ben distanti l'uno dall'altro come dei automi che si muovono meccanicamente. Il loro comportamento ovviamente ci racconta qualcosa ma il fatto che loro siano fisicamente lì ripresi in videocamera è un elemento fondamentale perché la polizia capisce dove loro fossero quel giorno, il 27 agosto del 2021. Concentrando le ricerche in questa zona scoprono un altro fatto rilevante accaduto il giorno prima, il 26 agosto, lì vicino in un ristorante, il Mary Piglets. Brian e Gabby, secondo la testimonianza del direttore, pranzano all'interno di questo ristorante alle 12 circa e poi se ne vanno però non pagano il conto, probabilmente stanno esaurendo i soldi. Allora un dipendente del ristorante li rincorre e alla fine loro pagano il conto ma il loro comportamento non è normale, insomma i due secondo i testimoni sembravano molto tesi e in seria difficoltà, tutt'altro che in armonia e sicuramente la loro relazione è attraversata in questo momento da molti litigi, provenienti anche dallo stress e dalla frustrazione di non avere più soldi per sopravvivere. Tante uscite ne sono entrata. Così, mentre continuano le ricerche e le indagini nel Wyoming, viene scoperto un altro fatto ancora che coinvolge moltissimo i seguaci di Gabby che stanno continuando a mantenersi informati su di lei e soprattutto questi seguaci stanno aumentando a dismisura. Quando quindi questo fatto viene alla luce e trapela, tantissime persone sono lì sintonizzate e lo scoprono. Però soprattutto questa è una svolta per la polizia. Il 20 settembre la polizia di Moab nello Utah diffonde una chiamata che era avvenuta a loro al 911 il 12 agosto, ovvero due settimane prima del filmato all'interno del supermercato al Grand Itain National Park, ovvero l'ultimo avvistamento insieme di Gabby e Brian. Quindi dobbiamo tornare indietro di due settimane rispetto all'ultimo avvistamento. La chiamata è di un cittadino della zona che dichiara di trovarsi in Main Street vicino al negozio Moon Flowers e di voler denunciare un fatto di violenza domestica appena visto con i suoi occhi. Colpo di scena dalla targa di un furgone bianco della Florida con a bordo un ragazzo bianco calvo e con la barba che aveva appena schiaffeggiato con violenza la ragazza insieme a lui con lunghi capelli biondi. Questi due ci sembra di conoscerli. L'uomo si ferma insieme ad alcuni amici per soccorrere la ragazza e i due giovani corrono su e giù per il marciapiede mentre il ragazzo alla fine picchia la ragazza e la fa salire sul van di forza mentre anche lui a sua volta sale riparte. Avendo visto questa scena ovviamente i cittadini segnalano quanto è avvenuto e parte una pattuglia di mob in cerca del van per verificare la segnalazione. C'è un drammatico video che viene ripreso dalle body cam e sicuramente tantissimi di voi lo avranno visto. Questo è un documento tristissimo degli ultimi giorni di dolore e di disperazione di Gabby Petito. Sono le 16 e 45 del 12 agosto e noi vediamo la gente a bordo della macchina fermarsi e da questa prospettiva sembra quasi di guardare un videogioco ma non è un videogioco. Gli agenti si muovono verso il van che si è fermato sul cio della strada. È pomeriggio inoltrato, il sole inonda la scena, il paesaggio è brullo e solitario. I due agenti quindi irrompono l'intimità di questi due ragazzi e riprendono Gabby e Brian che sono stati probabilmente interrotti nella loro furiosa litigata. Brian è la guida impassibile, Gabby invece è sconvolta, piange calde lacrime e sembra indifesa. Come vi chiamate? Gabby, Brian. Gabby, Brian, ok, che succede? Come mai piangi? Si rivolge a Gabby. Gabby ha la voce strozzata, tira su con il naso e dice piango perché stamattina abbiamo litigato. Quando viene reso pubblico questo video? Beh, tutto cambia. Noi eravamo abituati a foto e video gioiosi di Gabby e Brian ma qui i due sono in seria difficoltà. Gabby piange, è in piedi fuori dalla macchina, fatica a tenere proprio fermo il corpo dall'angoscia che l'attraversa. Non so, è che a giorni il mio disturbo ossessivo compulsivo peggiora. Stavo pulendo e sistemando il retro del furgone e gli stavo chiedendo scusa. scusa se sono così cattiva perché a volte quando divento ossessivo compulsiva mi sento frustrata. Quindi Gabby piange e si scusa e ammette di essere stata pesante nei riguardi del suo compagno. Lui, che è poco più in là, la osserva senza battere ciglio in silenzio. Che cosa era accaduto? A quanto pare Gabby era sbottata perché il van era tutto sporco di terra a causa di Brian e lei invece lo voleva mantenere pulito per il lavoro, per i suoi follower, dal momento che il successo del loro progetto, anche il loro sostentamento, deriva anche da questo. I due ragazzi a questo punto vengono separati in modo da poter parlare bene con entrambi. Gabby, credetemi, sembra un passerotto smarrito. Il suo corpo comunica un livello grande di sofferenza emotiva mentre Brian sembra rilassato, ride e scherza con gli agenti, sembra a suo agio e collabora con loro. Si mostra equilibrato, calmo, paziente. Quando mostra il suo documento lui fa pure la battuta. Dice prima avevo i capelli ma giuro che sono io. Poco più in là Gabby è in mille pezzi. Brian a questo punto fa commenti sulla fidanzata facendola passare per l'esaurita della situazione e cercando anche con gli agenti, uomini anch'essi, una situazione quasi di camerattismo maschile piuttosto rivoltante. Le mosche la infastidiscono molto. Poi avevo le scarpe sporche e ho sporcato tutto. La litigata è iniziata perché quando siamo tornati al furgone si era un po' sporcato. Poi ho spostato il cibo. Io sono disordinato e lei si è un po'... le ho detto andiamo a fare una passeggiata. Lei continuava a cercare di prendermi le chiavi. Le ho detto ferma sta lontana. È stato allora che mi ha colpito. Io non volevo spingerla. Ho solo cercato di tenerla lontana da me. Dunque secondo Brian è Gabby che ha sbagliato. È lei che lo ha aggredito. Sembra molto convincente mentre Gabby per nulla. Gabby è davvero agitata sull'orlò di una crisi di nervi. Quindi cosa fa Brian? È evidente no? Guardatela come sta messa. Io dovevo solo contenerla. Queste scene una volta che questo filmato diventa virale hanno spezzato il cuore a moltissime persone in primis alla famiglia di Gabby e anche alle vittime di violenza domestica. Gabby risponde alle domande della gente che la sta ascoltando e dice questo. Io ho appena lasciato il lavoro per viaggiare per il paese. Sto cercando di fondare un blog, cioè ce l'ho già, ma sto lavorando il mio sito web ed è stato stressante. Gabby si torce le mani e si piega su se stessa. Secondo lui, e lo indica, io non riuscirò mai a fare niente. È stato molto, non lo so, mi affossa, non crede in me. Insomma il problema non è la terra e lo capirebbe chiunque. Gabby è in guai seri, è spaventata, è delusa, è smarrita, ha perso ogni certezza. Poi prima non mi ha fatto salire nel furgone e la gente le chiede, per via del disturbo ossessivo compulsivo, mi ha detto che devo calmarmi, ma io sono calmissima, sono sempre calma. È lui che mi stressa e piange e piange e piange. Dunque Brian non l'ha fatta salire sul furgone, che peraltro appartiene al Gabby. L'ha tenuta fuori e ha pensato di poterlo fare, di avere il potere di fare questa cosa. Poi la gente si avvicina e le chiede, hai qualcosa sulla guancia? Sei stata colpita in faccia? Gabby continua a piangere, sembra vergognarsi anche moltissimo, mentre invece poco più in là Brian continua a ridere e a scherzare e sembra per nulla turbato. E mentre lui fa questo, Gabby dichiara di averlo colpito lei per prima. Eppure la telefonata parlava di una ragazza, rincorsa e schiaffeggiata con violenza e colpita con un pugno e Gabby oltretutto ha dei segni sul viso. Quando glielo fanno presente, lei rimarca che ha iniziato lei. Insomma, lei protegge Brian dalla polizia. La polizia la fa voltare e Gabby ha il lato destro del corpo contuso e segni rossi anche sul braccio, però non ricorda. È successo tutto troppo in fretta. Gli occhi di Gabby sono cerchiati di rosso. Il suo viso manifesta veramente una disperazione completa. Ti ha picchiato? Le chiedono. Io direi di sì, ma l'ho picchiato io per prima. Gabby si prende la colpa. È colpa sua. È lei la pazza? È lei quella con il disturbo ossessivo compulsivo? È lei quella che ha la mania di pulire e di volere tutto perfetto e che per giunta nella sua vita non conclude un bel niente. Insomma, Brian l'ha davvero convinta quanto pare di essere lei quella sbagliata. Provate solo un secondo a immaginare la sofferenza di un genitore, dei genitori di Gabby, degli amici e degli ex colleghi nel vedere questa Gabby qui, sola e in difesa, ridotta in quello stato. Nel vedere il lato oscuro di quel viaggio, ciò che si nasconde dietro a quelle foto con sorrisi a 32 denti e paesaggi mozzafiato. E di vedere quelle immagini lì quando Gabby è ancora dispersa. Penso che sia davvero troppo dolore da poter sopportare per una famiglia. Loro non avevano mai visto una Gabby così. Sembra lo spettro di se stessa. È terrorizzata. Ma non soltanto la voce, anche il corpo è oltre la soia del panico. Gabby mostra quindi come Brian l'ha colpita. Le ha afferrato così il viso, in questo modo. Un gesto di disprezzo e di supremazia che probabilmente li aveva già fatto anche in altri frangenti. Ma ora ascoltate con attenzione questo. Secondo voi, che cosa accaderà a questo punto? Avete visto i filmati? O comunque spero di riuscire a mettervi qualche filmato. Avete ascoltato quanto è accaduto? Ho sentito le conversazioni dei diretti interessati? Al termine di tutto questo, quel giorno, secondo voi, gli agenti accorsi alla chiamata. Come hanno deciso di agire? Quel giorno gli agenti decretano che il soggetto aggredito e bisognoso di protezione non sia Gabby, visibilmente distrutta, poco lucida e fragile, ma Brian Laundrie. Questo nonostante Gabby fatichi a stare ferma per via dei singhiozzi e nonostante l'abbiano visto dei testimoni oculari, aggredirla fisicamente. Nessuno ha mai visto Gabby aggredire Brian. Magari lei l'ho anche fatto a sua volta, per carità. Non eravamo presenti. Ma sicuramente Gabby è stata colpita da Brian e ci sono dei testimoni, inoltre porta i segni della violenza sul corpo. Loro decidono di dividerli per una notte. Gabby dunque vorrei che mi ascoltaste molto bene, viene lasciata da sola sul ciglio della strada. Sta per arrivare la notte, in quello stato alterato con il suo van, mentre Brian viene accompagnato in un albergo dove passa la notte a spese del fondo vittime. E mentre viene accompagnato in albergo è bello sorridente. Viene accompagnato a trascorrere la notte gratuitamente con le comodità di un albergo dopo aver schiaffeggiato e torturato psicologicamente la sua fidanzata. E questo ci turba sicuramente parecchio e ha turbato parecchio tantissime persone. Ma in quel caso lì la polizia si è comportata in questa maniera perché loro hanno valutato che la vittima in quel caso fosse proprio Brian Laundrie. Gabby a questo punto piange ancora di più perché non vuole restare sola assolutamente, vuole rimanere con Brian e dunque vive anche questo con più angoscia e dolore. Chissà che notte deve aver passato Gabby da sola. Sulla pagina Instagram di Gabby ci sono diversi post di quel 12 agosto, cioè di quella giornata che vi ho raccontato. Ci deve essere qualche congiunzione fra quei post e questo racconto, ma noi non lo vediamo dei social. È un'altra storia in tutti i sensi. Gabby sorride mentre cammina e c'è in particolare uno scatto dove lei e Brian si riprendono su un'altura seduti su un masso mentre si baciano sulle labbra. E questo qui è lo stesso giorno in cui è successo tutto quello che io vi ho appena raccontato. Però sui social bisogna comunque mantenere una simulazione festosa e serena perché lo spettacolo è il fondo in fondo. Deve andare avanti. A un certo punto, prima o dopo quello scatto, presumo dopo, lui l'ha presa a pizza in faccia e loro sono stati divisi dalla polizia. Ma ora con questo filmato agghiacciante l'altra faccia della medaglia emerge e tutti ne sono attratti, sconvolti, tutti vogliono sapere dove sia Gabby. Fuori da casa dei Londri perdurano degli appostamenti di persone che chiedono di Gabby, amici, vicini, ex compagni di scuola, ma anche moltissime persone che non l'hanno mai conosciuta ma che si sono comunque affezionati a lei guardando i suoi post, le sue storie e conoscendo la vicenda. A questo punto della nostra storia Gabby è scomparsa da due settimane e l'ultimo avvistamento come vi ho detto risale al 27 agosto del 2021 all'interno del supermercato. L'ultimo suo post su Instagram invece è quello con la piccola zucca tra le mani ed è del 26 agosto. Ma Brian? Cosa dice Brian? Ora ci arriviamo. Brian torna a vivere come se nulla fosse a casa sua in Florida insieme alla sua famiglia trincerandosi all'interno della casa. Non sappiamo cosa o quanto abbia condiviso con loro su ciò che è avvenuto tra lui e Gabby. Sicuramente ne avranno parlato. Il 15 settembre fate attenzione Brian viene dichiarato un sospettato nella scomparsa di Gabby mentre i social di Gabby continuano a crescere e in breve la pagina Instagram di Gab di Gabby viene seguita da oltre 150.000 persone. La maggioranza di queste persone pensa che Gabby sia morta ve lo dico chiaramente però molti di loro nell'attesa mantengono comunque una piccola speranza. Sperano che Gabby sia stata abbandonata nel Wyoming ma che sia sopravvissuta o magari che sia ferita in attesa di essere soccorsa. Ed è qui che grazie proprio ai social che Gabby tanto amava emerge un altro sconvolgente dettaglio che farà filtrare uno spiraglio di luce quantomeno nello scoprire quale tragica sorte sia toccata effettivamente a Gabby. Il 18 settembre una coppia di youtuber omonimi di Gabby e di Brian ovvero che gestiscono un canale inerente la van life. John e Kyle Beaton si rendono conto di un dettaglio agghiacciante tra quello che è il loro materiale di lavoro. Anche loro stanno seguendo il caso di Gabby e Brian e sono particolarmente coinvolti un po' perché appunto hanno fatto una scelta di vita e di lavoro identica ai due ragazzi di cui tutti stanno parlando in quel periodo ma anche perché attenzione coincidenza veramente agghiacciante anche loro si trovavano con il loro van al Teton National Park nello stesso periodo in cui erano passati di lì anche Gabby e Brian. Dunque mentre stanno guardando il telegiornale e stanno osservando il van di Gabby rimangono inchiodati. Scusa scusa aspetta un attimo ma noi questo furgone lo abbiamo già visto? Pensa e ripensa cerca e ricerca riguardano ogni video del Teton National Park e scoprono che proprio il 27 agosto mentre stavano gironzolando con il van per quelle zone avevano ripreso il furgone di Gabby e lo avevano ripreso per caso parcheggiato a lato della strada un po' nascosto. Zoomando osservando meglio si nota un infradito sul retro del furgone una sola che è simile a quelle che indossava Gabby in alcuni filmati compreso il video della polizia di Moab. Questo infradito è buttata lì così in mezzo alla polvere. La coppia posta il video su internet e diventa virale e contatta però anche subito la polizia per mostrare anche a loro la scoperta. E questo chiaramente altro che si aiuta perché circoscrive di moltissimo dove cercare. Infatti le ricerche in quella zona lì erano già iniziate dal 16 settembre sotto la direzione dello sceriffo locale Matt Carr ma questo dà uno slancio non da poco alle indagini perché delimita il perimetro. Infatti attraverso l'utilizzo dell'app The Dirt da parte della coppia loro erano riusciti a ricostruire gli ultimi accampamenti dei ragazzi perché in sostanza con le coordinate GPS l'app riesce ad agganciare il luogo e loro erano partiti nell'ultima località segnalata ovvero nella Bridger Teton National Forest e per la precisione nell'area camping Spread Creek. Le ricerche della ragazza non sono una passeggiata perché quest'area è imperversata da forti venti e da nevicate e loro devono fare presto perché o Gabby viene ritrovata subito oppure l'inverno avrebbe avuto il sopravvento e loro avrebbero dovuto aspettare fino alla primavera per poter ritornare a pattugliare quelle zone. Il 18 settembre però scoprono l'esistenza di questo fortuito filmato e una volta raggiunto il luogo dove si trovava il van parcheggiato ripartono da lì. È il 19 settembre sono passati meno di due mesi dall'inizio del viaggio di Gabby e Brian ma sembra passata veramente una vita intera e qui a Spread Creek in unità a cavallo si concentra sul versante sud. Nonostante il filmato non hanno comunque grandiosi aspettative perché questa qui è un'aria immensa. dopo il versante sud del letto del fiume loro passano al versante nord. Sono circa le 12 e 30 quando finalmente il vice sceriffo Andrew Roundy nota qualcosa che stona del tessuto. Del tessuto a terra che non c'entra ovviamente nulla con tutto il resto quindi lo individua subito. Poi vede dei lunghi capelli, i capelli biondi di Gabby. Le ricerche sono finite. Gabby Petito è stata ritrovata a circa 5 barra 10 minuti dal luogo ripreso dai youtubers e da quella ciabatta infradito a terra. Gabby giace riversa su un fianco in posizione fetale su una piccola collinetta in mezzo a questa natura incontaminata che lei tanto amava. A guardarla da dietro sembra serena come una principessa fatata che si è stesa lì a riposare con le mani sotto al capo. La testa guarda verso valle ok e già questo fa presagire che Gabby non stia dormendo perché nessuno si metterebbe mai a dormire con la testa rivolta verso valle. Qualcuno vorrebbe sperarci ma la posizione di Gabby è troppo innaturale perché chiaramente il sangue leva tutto la testa. Agli agenti dunque sembra una messa in scena. Ci si domanda se Brian l'abbia uccisa in scena ad una morte per cause naturali e se l'abbia lasciata lì da sola abbandonata gli avvoltoi e fa male. Il medico legale conferma la causa del decesso di Gabrielle Gabby Petito ed è una rivelazione terrificante che però tutti noi ci aspettavamo. Gabrielle non è morta per cause naturali. È morta per stranamento. È stata uccisa a mani nude. È un assassino il suo. Non c'è nessun dubbio in merito. Intanto fuori dalla casa dei Londri mancano soltanto i forconi ma l'atmosfera è la stessa. Civili, giornalisti sono accampati e aspettano finalmente che lui esca da lì e che risponda delle sue responsabilità, che venga prelevato dalla polizia. Ma i colpi di scena in questa storia non sono ancora finiti. Si scopre che Brian non è in casa. Brian è scomparso. I genitori infatti denunciano la scomparsa di Brian il 17 settembre, quindi due giorni prima del ritrovamento di Gabby. Dicono che lui si è allontanato da casa il 13 settembre. È uscito per una piccola escursione e non è tornato a casa. Non risponde ai loro messaggi ma colpo di scena. I suoi genitori aspettano quattro giorni per denunciare la scomparsa del ragazzo in tali circostanze. Questa storia è attraversata da colpi di scena veramente impensabili. Quindi Brian, ora che è stata ritrovata Gabby, non c'è. Si è volatilizzato proprio adesso. Proprio adesso che qualcuno ha qualcosa da domandargli e la storia sembra ripetersi. Così, dopo aver cercato Gabby, iniziano a cercare anche lui. E il luogo in cui lo cercano è la Carton Reserve in Florida. Ma perché si dirigono qui? Perché Brian Londri era rientrato appunto, come sappiamo, a casa dei genitori il primo settembre. Aveva passato due settimane con loro e poi il 13 settembre era uscito per andare a fare un'escursione proprio alla Carton Reserve. Va a fare questa bella escursione in un'enorme zona paludosa, piena zeppa di cinghiali, serpenti velenosi e perché no anche di alligatori. E da quel momento nessuno lo aveva più visto né sentito. Tutti pensano che sia un blef, che lui sia scappato, ma dopo tre settimane di ricerche il giovane non si trova. Intanto, a fine settembre, Gabby Petito supera il milione di seguaci sui social. Il suo più grande sogno si è realizzato, ma lei non è lì per vederlo. Sempre sui social a questo punto i riflettori non si spengono. Ci sono varie teorie sulle sorti di Brian e ci sono anche molti avvistamenti di Brian. Si parla addirittura del Messico o che si è sepolto all'interno del giardino di casa in una sorta di bunker e nutrito attraverso una cannuccia dai genitori quando il padre esce a coltivare l'orto. E si va avanti così tra vari deliri fino a quando i genitori di Brian non escono finalmente dopo mesi allo scoperto. Scivolano via dal loro impenetrabile silenzio. È giunta l'ora. È il 29 ottobre del 2021 e siamo nella Carton Reserve, Florida. Questa zona è stata pattugliata da gente a cavallo per oltre un mese con un grandissimo dispendio di energie e risorse, ma finalmente sotto l'indicazione dei Londri sanno dove cercare. I genitori dei Londri avevano indicato quello come luogo dove il figlio si era recato in escursione prima di scomparire, però tutti lo cercano e nessuno lo trova. Ma poi, improvvisamente, i genitori decidono di andare fisicamente anch'essi a cercarlo e immediatamente loro due, guardate un po', riescono a trovare in questo gigantesco labirinto paludoso effetti personali appartenuti al figlio. In pochi minuti, come se sapessero dove dirigersi. Informano la polizia, che si concentra subito in quell'area e poco dopo, pochissimo dopo, esattamente dove si trovavano i genitori di Brian, venne ritrovato uno scheletro ormai distrutto, appartenuto ad un essere umano. Dal confronto delle impronte dentali, non la tiro lunga, viene fugato ogni dubbio, quelli sono i resti delle 22enne Brian Laundrie. Inoltre viene recuperato uno zaino impermeabile e un tacquino di ario, chiaramente e certamente appartenente al giovane. Dentro allo zaino ci sono alcuni vestiti, ci sono delle foto, viene inoltre ritrovata una pistola che possiamo desumere a che cosa sia servita. Ma è sul diario che si concentrano tutti, perché forse nel diario si cela il mistero di Gabby e di Brian. Il mistero di questi due giovani, con un immenso potenziale futuro davanti, finiti cadaveri in due riserve a meno di tre mesi dall'inizio del loro viaggio d'amore ed avventura. Dunque ora anche i resti di Brian vengono recuperati, ma sono molto deteriorati. Vengono ritrovate in sostanza solo alcuni ossa del giovane, perché come vi ho detto la riserva dove viene ritrovato è paludosa, è piena di insidie. Il medico legale spiega che i resti infatti sono rimasti a lungo sott'acqua e per questo si sono deteriorati. Inoltre anche gli animali hanno contribuito a fare il loro, con le loro attività hanno smembrato e consumato il corpo di Brian. Quindi il corpo viene sottoposto a diverse autopsie di vari livelli e gradi per comprendere la causa della morte con certezza. Perché Brian potrebbe essere morto durante la fuga, inciampando e ferendosi, tentando di sopravvivere in una zona tanto estrema, oppure dopo aver ricevuto l'attacco di un animale o ancora di fame o di sete. Ma la causa della morte viene infine rivelata a febbraio del 2022. Brian si è sullato, si è sparato un colpo alla testa. Nel frattempo si aspetta con tripidazione il contenuto di quel taccuino, sperando che sia leggibile. E lo è. È il momento di svelarvi il contenuto, scritto a penna da Brian, dove lui racconta la sua versione dei fatti. Una versione a cui molti non crederanno e a cui molti di voi non crederanno e che ci lascia davvero sconvolti. Gabby inizia Brian. Vorrei essere al te in questo momento e ripercorrere i nostri ricordi. Mi emozionerei ancora di più per il futuro. Senza di te non posso vivere. Ho perso ogni giorno che avremmo potuto trascorrere insieme, ogni vacanza. Ti ho amata più di ogni altra cosa e non posso sopportare di guardare le nostre foto, di guardare i momenti più belli ed è per questo che non posso andare avanti. Quando chiuderò gli occhi, penserò quando mi sdraiavo sul tetto del furgone, addormentandomi alla vista di una pioggia di meteoriti, al geyser di cristallo. Ti amerò sempre. Dunque Brian inizia nostalgico. Parte così, sembra parlare a cuore aperto direttamente a Gabby, considerandola l'amore della sua vita e considerando la sua vita ormai inutile senza di lei. Come se lui l'avesse persa per sempre, tragicamente. È come se lui fosse stato travolto da ciò, quindi uno spettatore di questo. E poi continua, ma cambia soggetto e ora si rivolge al mondo che sta aspettando e che spera di sapere che cosa sia accaduto a Gabby con il fiato sospeso. Se leggessi il diario di Gabby, se guardassi le foto della nostra vita insieme, se sfogliassi le vecchie cartoline. Non vorresti vivere un giorno senza di lei. Non vorresti svegliarti senza di lei. Mi dispiace per tutti coloro che verranno colpiti da questa notizia. Gabby era l'amore della mia vita, ma era adorata da molti. Mi dispiace molto per la sua famiglia. Amo anche loro e considero i suoi fratelli minori i miei migliori amici. Mi dispiace per la mia famiglia. Questo è uno shock e un terribile dolore anche per loro. L'hanno amata quanto, se non più di me. Una nuova figlia per mia madre e una zia per i miei nipoti. Per favore, non rendete loro la vita più difficile. Un altro lungo prologo, dunque, dove però Brian non arriva al succo. Lui continua a rimarcare quanto Gabby fosse speciale per tutti, soprattutto per i suoi genitori. Ma ora, finalmente, è il momento della rivelazione e allora torniamo indietro al Teton National Park. Li abbiamo lasciati lì al loro splendido viaggio, costellato di stranezze, fotofilici, ma anche di avvistamenti di abusi fisici e psicologici ai danni di Gabby. L'ultima tappa conosciuta è la Teton National Reserve e l'area camping di Spread Creek. Tornando di corso al nostro furgone, cercavo di attraversare in corsa i ruscelli di Spread Creek, prima che diventasse troppo buio per vedere e troppo freddo. Ho sentito un tonfo e un urlo. Riuscivo a malapena vedere. Per un attimo non riusci a trovarla. Gridai il suo nome. La trovai che risperava affannosamente, rantolando il mio nome. Era congelata. Eravamo appena arrivati dal caldo torrido dei parchi nazionali dello Utah. La temperatura era scesa a zero e lei era bagnata a fradicia. L'ho portata il più velocemente possibile lungo il torrente, verso la macchina, inciampando. Ero esausto e sotto sciocche e quando le mie ginocchia hanno ceduto ho capito che non potevo più portarla. Accesi un fuoco e la misi a cucchiaio intorno a me. Il più vicino possibile al calore. Lei era così magra. Era già congelata da troppo tempo. Non riuscivo a rendermi conto che avrei dovuto accendere prima il fuoco, ma volevo portarla alla macchina. Da dove ho acceso il fuoco non avevo idea di quanto potesse essere lontana la macchina, ma sapevo che era dall'altra parte del torrente. Quando ho tirato Gabby fuori dell'acqua non è riuscita a dirmi cosa le facesse male. Aveva un piccolo bernoccolo sulla fronte che alla fine è diventato più grande. Le facevano male i piedi, il polso. Tremava violentemente. Mentre la portavo in braccio continuava a lamentarsi del dolore. Mentre ero sdraiato accanto a lei, a malapena parlava. Si scuoteva violentemente e rantolava di dolore. Mi supplicava perché mettessi fine alle sue sofferenze. Si addormentava e io la scuotevo temendo per una commozione cerebrale. Quando la svegliavo riprendeva a penare, furiosa che fossi io a svegliarla, e ricominciava l'intero ciclo di dolore. Non mi ha permesso di lasciarla lì e provare ad attraversare il torrente da solo. Pensava che il fuoco si sarebbe spento durante la mia assenza e che lei sarebbe congelata. Non capivo l'entità delle sue ferite, ma so che soffriva così tanto. Ho posto fine dunque alle sue sofferenze. L'ho uccisa. Ho pensato che fosse un atto misericordioso, che fosse quello che voleva, ma ora comprendo gli errori che ho commesso. Ero in panico, ero sotto shock, ma dal momento in cui ho deciso di toglierle il dolore, ho capito che la mia vita era finita. Volevo guidare a nord e lasciare che James, il patrigno di Gabby, o TJ, il fratello, mi uccidessero. Ma non volevo che loro finissero in prigione a causa mia, anche se sono sicuro che avrebbero voluto farlo. Pongo fine alla mia vita non per paura di una punizione, ma piuttosto perché non posso vivere senza di lei. Ho perso il nostro futuro insieme e mi dispiace per la perdita di tutti. Vi prego di non rendere la vita più difficile alla mia famiglia, che oggi ha perso un figlio, oltre che una figlia. La ragazza più meravigliosa del mondo. Gabby, mi dispiace. Mi sono ucciso vicino a questo ruscello, nella speranza che gli animali mi facciano pezzi. Che questo possa rendere felice la sua famiglia. Per favore, raccogliete tutte le mie cose. Gabby odiava le persone disordinate e che sporcano. Dunque, la versione di Brian è questa. Era tutto ok, loro erano felici, il loro viaggio era perfetto, però di rientro da un'escursione accade il dramma. Si accorgono improvvisamente di aver fatto tardi. È buio, è freddo. Gabby inciampa e finisce nell'acqua gelida e a quanto pare si ferisce così tanto che annulla totalmente il suo desiderio di vivere ancora a 22 anni. Lei arriva quella notte a chiedere al suo fidanzato di porre fine alla sua vita, di ucciderla lì in mezzo al bel niente. E Brian l'accontenta. Lui uccide la sua fidanzata a seguito di una caduta in un torrente, in un ruscello, perché vuole rispettare la sua volontà. Non pensa di andare a cercare i soccorsi da solo, lasciandola lì vicino al fuoco. Certo, è un rischio, ma non avevano camminato così tanto e in ogni caso lui avrebbe fatto qualcosa di concreto. Inoltre, c'è la questione del campo. Vi ricordate che in quella zona del telefono aveva agganciato l'ultima posizione di Gabby? Beh, possibile che non ci fosse un briciolo di campo lì attorno per poter mandare un SOS? Forse sì, forse no. Ma questa è la scelta di Brian. Ma questo è quello che Brian racconta. Quello che però emerge oggettivamente è che Brian non ha fatto nulla, non ha tentato nulla. Eppure lui si vantava di essere un esperto di sopravvivenza. È riuscito a portare fuori la sua pelle da quella situazione e ad orientarsi alla fine. Ma Gabby no. Gabby è meglio sopprimerla. Per Gabby è troppo tardi. Non valeva la pena tentare. Quando verificano il punto dove Gabby viene ritrovata morta, al punto dove era il furgone di Gabby, ripercorrendo il tragitto a piedi, beh, la distanza da coprire era di cinque minuti a piedi. Cinque minuti a piedi. Massimo dieci. Si è stanchi. E poi c'è la questione del dopo. Cioè Brian non ha denunciato quanto accaduto e nemmeno i suoi genitori lo hanno fatto. Eppure, come scrive lui nel taccuino, l'amavano come una figlia. Dunque lasciano il corpo di Gabby esposto come un sacco di immondizia, disperso nel beato nulla alla merce di sciaccalli e di avvoltoi. Chi permetterebbe ai resti di una persona amata di essere trattati così, di essere divorati e smembrati dai denti di un animale o di guastarsi alle intemperie, di essere perduti per sempre, di non ricevere nemmeno una pietosa sepoltura. Un uomo che si preoccupa delle cartacce e di non inquinare l'ambiente ma che lascia il corpo della fidanzata in quello stato. Ha senso, forse solo per lui. E poi Brian aveva mandato lucidamente dei messaggi ai familiari di Gabby e in particolare alla madre Nicole per depistare spacciandosi per lei. Gabby a quel punto era già morta quando lui lo fa. L'autopsia di Gabby ha parlato molto chiaro che chi ne dica Brian ed è scienza. Lei aveva una ferita da corpo contundente ed era stata stata meccanicamente. La menzione inoltre al disordine e alla preoccupazione a non inquinare con le proprie scorie è davvero bizzarra, soprattutto da parte di un uomo che ha appena ammesso di aver ucciso la propria fidanzata e che sta per uccidersi a sua volta lasciando il suo corpo in pasto agli alligatori. No, quello che molti ritengono sia accaduto e gli elementi raccolti ci raccontano tutt'altra storia. Ci raccontano di una Gabby stanca e ormai spenta che decide di lasciare quel fidanzato e il suo sogno di scendere dal treno in corsa perché non è tutto idiliaco. Un fidanzato violento, soffocante, manipolatorio. Però forse sceglie il momento peggiore per dirglielo durante l'inesima litigata nel cuore del Teton National Park dove nessuno può sentirla aiutarla. La furia di Brian si abbatte su di lei e lui la uccide a sangue freddo. Chissà se Gabby è riuscita a pensare anche solo per un secondo all'inizio di quel viaggio e all'assurdità della sua fine. È tutto sbagliato. È tutto sbagliato eppure questo grande e colossale errore è capitato proprio a lei. Infine Brian trascina il suo gracile corpo e lo pone in una posizione naturale pensando di scenare una morte accidentale di Gabby e infine torna dai suoi genitori con il furgone della fidanzata. Non sappiamo che cosa abbia condiviso e raccontato ai suoi genitori e quanto abbia appunto rivelato loro sui suoi propositi ma c'è chi pensa che Brian abbia confidato loro il proposito di togliersi la vita e che loro lo abbiano aiutato a farlo. Sarebbe molto bello che Gabby potesse oggi vedere al di là dei numeri che ha sulle sue pagine che oggi hanno così tanta importanza quante persone in realtà le hanno voluto e le vogliono bene e che tengono a lei. Io stessa ho empatizzato con lei da subito e provo per lei sentimenti di affetto in qualche modo pur non conoscendola. Io stessa ho versato proprio delle lacrime per Gabby Petito questa ragazza che desiderava solo vivere la sua vita pieno e che aveva tutte le carte per farlo. Noi non l'abbiamo dimenticata. I suoi profili social diversamente da quelli di Brian che sono stati chiusi e oscurati sono ancora pubblici e attivi e ogni giorno delle persone vanno a renderle omaggio e affetto e a ricordarla. La domanda che sicuramente resta nell'aria ed è ancora volta dal mistero ma a cui fa tanta paura pensare è quanto i genitori la famiglia di Brian sapessero su ciò che è avvenuto e quale posizione abbiano preso in merito. Dunque sapevano che Gabby era morta da subito e hanno scelto di non dire nulla ai suoi genitori? Hanno portato il figlio? Hanno litigato con lui? Hanno chiesto delle spiegazioni? È veramente veramente assurdo. Hanno appoggiato il suo desiderio di suicidio accompagnandolo e assistendolo ritenendolo ormai perso? Sono interrogativi più che disturbanti ma ancora più disturbante è sapere e vedere le foto dei Londri nelle due settimane antecedenti la scomparsa di Brian quindi due settimane dopo il rientro di Brian poco prima che lui scomparisse. Sono tutti insieme in campeggio insieme a Brian questo mentre i Petito chiedevano loro disperatamente una briciolina di informazioni sulla figlia. Come se quello fosse il loro ultimo viaggio insieme, un viaggio di commiato. Roberta Laundrie, madre di Brian, aveva bloccato il profilo Facebook e il telefono della povera Nicole Petito, la madre di Gabby, che le chiedeva disperatamente aiuto. La famiglia di Gabby ha intentato una causa civile contro i Londri ritenendoli irresponsabili di molto del loro dolore e agonia. I Londri invece negano ogni coinvolgimento. La storia di Gabby ha contribuito in modo deciso ad aiutare le vittime di violenza domestica. I Petito hanno fondato in sua memoria la Gabby Petito Foundation, ovvero una fondazione attiva nell'aiutare le famiglie di persone scomparse e le vittime di abusi e di violenze domestiche. A Gabby. Vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia. Al prossimo martedì alle ore 20.